Non guardarvi verso il futuro, un po' di suono nuovo, più demore, roba, ma nessun gioco, ma nessun gioco, ma nessun gioco, ma nessun gioco, devi alzare tutto, far esplodere tutto, dove sono i miei eroi, ci scherzo o no? Un po' di bui leggo, non sei comunque jam a pirmbi, strutturali, bevincaso a lo sure, uspolzare tutto, non riesco, ma nessun gioco, ma nessun gioco, me la situo domande, roba, ma nessun gioco, ma nessun gioco, ma nessun gioco, ma nessun gioco, nessun gioco, non siano bore, bei sicurezza e domande, bow, ma nessun gioco, manque,막are tutto, far esplodere tutto, far esplodere tutto, vai blama, nessun gioco, viste drugu Klipolohnrini, happnon niente, fare troppo, niente, fünfu, son pe konierinton, se ci rieso sempre far esplodere tutto. non mi sento in bollettina quando si vede male se ti sento l'uspire nuovo mi leggo e vieni se è la luce dove sono ti sfido il sole e sbagli in teo figli e mi sfidi come ti vedi quando ti vedi quando ti vedi quando ti vedi quando ti vedi lo sei se tu mi vicini a cui ispira nella sua risposta e la mia 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 non sei che ne vedi qui un mondo di energia come ti segui come ti crei una realtà tua movellasse musicali dal futuro e che se sento un bico se mi viene duro Se lui è così divusi 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 questa nazione ha bisogno di erore o no? questa nazione ha bisogno di erore per essere salata? o no? ci siete o no? un sacco di artisti sul mire spingono seddienti anche se ne Fight Center la radio voi li seguitemo No, ognuno deve portare appuntamento nella propria vita ogni giorno. No, senza nessuna eccezione, siamo tutti che li possano in ammanazione, no con i sogni e potenti, mi fa il potore. No, questa posta è di volontà che si fa la rivoluzione per il suo interiore. No, mi nasce tutto, non è pure un comune, è l'indicatore, la prima volta mostra con le note e l'amore è la posta con le note. per accelerare lo stato di trasformare per provare l'interduttura di un posto a fare e per dare una ricerca di università questi qua si stanno in modo a lavorare qua e poi non davvero voi prendere i tesi che sono pronti che si fanno i interessi suoi o come per noi come iniziano i paletro non vanno a cazzo, non vanno a curare chi è che conosce questo il figliaro ha l'intensuato nel suo stagione di un show chi è che la sta? chi si è che la sta? guarda su! Mario Monti mi dice che mi deve inventare un lavoro e una vita sono più di vent'anni che me la invento in un paese che non ci riconosce come artisti all'interno della società ma se tutto il mondo si è rispettato ma se in Italia se non si può il padrone si può il presidente se non si è sotto padrone c'è il presidente della nazione che ci pensa che conosce il primo si porta se non si è sotto padrone se non si è sotto padrone se non si è sotto padrone che altri soldi se non si è sotto padrone la nostra storia se non si è sotto padrone 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 si è sotto padrone se non si è sotto padrone che ci si è sotto padrone I didn't want to be true, 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 I didn't want to be true Grazie